Lo dico senza voler provocare ancora il senatore Barani, disgustano, perché è il messaggio peggiore che si può dare ai cittadini in termini di credibilità di chi governa. Se viene eletto in una lista, in quella lista resti e in quella lista rappresenti i cittadini che ti hanno eletto. Il passare da una parte all'altra, perché i sondaggi ti dicono che il partito in cui sei stato eletto sta perdendo consensi e che se invece sostieni la maggioranza puoi averne beneficio, è cosa che definisco disgustosa e che purtroppo in questa circostanza non sta sostenendo il governo in semplici leggi, ma sta dando al governo numeri importanti per modificare la Costituzione. Questi sono aspetti che credo allontanano ancora di più il cittadino dall'istituzione e cosa che oggi sta avvenendo purtroppo. E' quello che diceva prima il senatore Barani, altri passeranno nel gruppo di Verdini e compagnia. Io non ne andrei fiero se fossi in voi, perché state dando la dimostrazione che esiste ancora e a piene mani.